Grande partecipazione questa mattina a Chiarano per la benedizione degli animali, rito che si ripete ormai da molti anni in occasione della festa dei patroni Sant'Antonio e Marcello. Piazza affollata di cani, cavalli, asini, capre, pecore, che prima della messa sono stati benedetti dal parroco Don Carlo. Il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. All'uomo hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Preghiamo. Preghiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.